Buongiorno, bentrovati ad una nuova puntata di mattina live. Iniziamo e partiamo la nostra mattinata, questa giornata, in compagnia di un ospite eccezionale. Lui in realtà ha una carriera, vanta una carriera straordinaria, costellata da tantissimi spettacoli e altrettanti successi e che ritroveremo fra pochissimo al format di Made in Sud. Insomma è piacere di avere qui con noi quest'oggi Peppe Laurato. Buongiorno Peppe, che piacere di averti qui con noi quest'oggi. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti gli amici di mattina live e grazie dell'invito. Ma grazie a te perché noi oggi vogliamo che tu ti racconti un po' il nostro pubblico di mattina live ma soprattutto partiamo da questa meganotizia perché sta per ripartire questo format che oramai da anni ha raggiunto e ha tutt'oggi raggiungere grandi successi quale Made in Sud nel quale ti ritroveremo fra i protagonisti che dobbiamo aspettarci, quali le novità che possiamo raccontare? C'è qualche cambio, stiamo lavorando, tutto working in progress e dovremo ripartire per metà aprile Made in Sud il lunedì, solito ora, su Re2. Quindi c'è qualche piccola modifica ma non... Che non possiamo svelare, mi sembra di comprendere le tue parole. Esatto Peppe, negli ultimi anni tra l'altro le tue esibuzioni hanno avuto davvero grande successo e sono diventate, sono state amate e tutt'oggi il pubblico ama quelle che ti hanno visto protagonista con Rosaria Miele che hanno ottenuto tanti consessi, una coppia molto amata dal pubblico ecco vediamo grazie al nostro regista Salvatore Mondo l'immagine iconica di questa coppia che ecco piace al pubblico ma che cos'è che ha di particolare questa coppia, perché piace ma soprattutto come nasce Peppe? Allora questa coppia nasce perché noi ci siamo incontrati proprio sul palco di Made in Sud bisogna dire che io precedentemente ero in un duo, i due per due con Massimo Borrelli che ci ha lasciato nel 2016 quindi ho iniziato una piccola parentesi da solo e durante l'edizione del 2017 presentata da Gigi D'Alessio mi ritrovai in interazione con Rosaria Miele che aveva iniziato insomma la carriera da sola nel personaggio di Miss Illude io quell'anno portai il personaggio di Peppe Step, fondemmo le due cose e rimanemmo insieme per altre 4-5 puntate fino alla fine dell'edizione la cosa funzionò e quindi decidemmo di provare a fare qualcosa insieme ci è venuta l'idea di parodiare un programma televisivo che è Andressed dove due sconosciuti si conoscono per la prima volta a letto e noi siamo quei due sconosciuti che si incontrano a letto di Made in Sud e da lì partono tutte e lo sketch si chiama Andressed giustamente perché siamo tutti e due fisicamente e da lì parte la comicità da lì parte la comicità perché vedere due persone insomma curvi sul letto con battute insomma e acrobazie vietate a chi ha la nostra condizione fisica è una cosa che ha funzionato che ha funzionato e che è piaciuta tanto al pubblico tant'è vero che è una coppia molto amata e non sappiamo se la ritroveremo qualcosa però è cambiato quindi siamo tutti lì ad aspettare il cambiamento e ad applaudirlo naturalmente forse forse ritornerà il letto ritornerà in grasse ed anche perché noi abbiamo avuto una breve parentesi con Made in Sud nel 2020 proprio l'anno della pandemia in quell'edizione c'erano molte regole soprattutto non si poteva avere contatto con chi non era congiunto quindi noi essendo congiunti non potevamo avere contatti il letto non si poteva fare non si poteva utilizzare ci inventammo last minute un diverso sketch che era lo zuppa party adesso dovrebbe ritornare non vediamo l'ora un grasse ma nemmeno io almeno sto sul letto con Rosario non vediamo l'ora intanto l'hai menzionato tu prima io dicevo pubblico la tua carriera vanta tanti successi tanti spettacoli e lo hai ricordato prima perché tu facevi parte di questo duo due per duo in coppia con Massimo Borrelli che purtroppo ci ha lasciati qual è il ricordo ecco non posso non chiedertelo qual è il ricordo che ancora oggi conservi di Massimo? io credo che Massimo ha lasciato a me il suo 50% e si è portato via il mio 50% perché dopo 19 anni credo che le persone si fomano questa è la locandina dell'ultimo evento con l'associazione che porta il suo nome che abbiamo dedicato a lui io e la sorella l'associazione Massimo Borrelli voglio il Massimo noi organizziamo sempre degli eventi per raccogliere i fondi e donarli alla ricerca contro il tumore al pancreas e questo è stato l'ultimo fatto al maschio angiochino il 14 settembre quindi lui ha lasciato il 50% di me io credo che non sono più il Peppe lavorato di 18enne credo che al di là che un uomo crescendo cambia, si modifica, matura ma credo che abbia preso molto da lui ma anche il modo di pensare il modo di stare sul palco il modo di vivere c'è ogni volta Massimo con te sul palco ogni volta c'è Massimo ma è difficile cancellare i 19 anni tra i successi, gli insuccessi il rapporto che abbiamo creato io e lui il rapporto umano proprio l'amicizia che c'era purtroppo è capitato ed è una cosa grave perché fa molte vittime il cancro al pancreas è uno dei cancri risolvibili del nostro tempo intanto due per due una coppia speciale raccontiamola a pubblico cosa aveva di così particolare e speciale questa coppia? beh, ma noi avevamo al centro della nostra comicità c'era l'autoironia poi avevamo un ritmo molto incalzante siamo stati a Colorado Caffè non ricordo l'anno comunque siamo stati a Colorado Caffè che portavamo i poliziotti che era basato proprio sul gioco di parole poi iniziò l'avventura di Made in Sud quindi tra virgolette sono proprio uno dei vecchi a Made in Sud perché siamo partiti sia su Comedy Central su emittenti regionali campane fin quando poi non siamo arrivati in Rai quindi si realizzava il sogno di questo gruppo di ragazzi all'epoca di ragazzi che si sono stati messi insieme dal produttore Nando Mormone e a Made in Sud invece portammo lo strip che ebbe molti consensi lo strip cabaret che ebbe molti consensi e quindi cosa avevamo di particolare che era una sola cosa fondamentalmente due per due racchiudeva i due attori per il duo di cabaret ma diventammo una sola cosa insomma quando diventi una sola cosa ti accorgi quando tu incontri una persona un addetto ai lavori che ti dice c'era Massimo e diceva è Peppe oppure c'ero io e Massimo perché ormai dovevamo camminare insieme si camminavano insieme ma oggi hai detto ecco c'è sempre Massimo contiene i tuoi spettacoli che cos'è che però porti di Massimo e qual è l'insegnamento che decidi puntualmente di riportare in scena tutte le volte? guarda al di là del ricordo è che è una sua idea quella là dell'associazione di formare l'associazione lui nel periodo della cura della chemioterapia aveva il desiderio perché capì che era un gravissimo male che colpiva all'epoca già stava iniziando a colpire le fasce più giovani e quindi è da poco che la ricerca sta approfondendo sul cancro al pancreas perché prima la soglia era alta che mi perdonino insomma le persone anziane ma superata una soglia d'età ce lo insegna la vita cioè nasciamo, cresciamo e moriamo ma quando un giovane viene colpito da una malattia e si ha enorme difficoltà a combatterla lui già in quel periodo là aveva questo desiderio i tempi naturalmente non erano favorevoli favorevoli ad atti perché la chemioti distrugge l'angoscia insomma ti ruba molto tempo e quindi subito dopo un anno non smaltito il dolore c'era sempre abbiamo preso l'energia del dolore che di solito molto spesso è negativa l'avete esorcizzata per diventare positiva e formare l'associazione quindi già questa l'associazione era una sua idea in quel periodo là per quanto riguarda la comicità è tanto fondamentalmente 19 anni formano insomma al di là che uno cerca sempre nuove cose nuovi spunti però fondamentalmente la comicità io l'ho formata insieme a lui quindi è un due per duo proprio nel vero senso della parola e del sintagma intanto parliamo dei tuoi sordi degli inizi e fra gli sordi c'è anche ci sono protagonisti Alessandro Siani e Francesco Albanese nel quale c'è questo trio che comunque ha restituito molto clamore al pubblico che esperienza è stata quella e che ricordi hai invece di quell'esperienza un'esperienza fantastica un'esperienza fantastica poi alla fine noi ci siamo divisi io dico sempre il finale poi dopo ritorniamo all'inizio per comprendere il senso per comprendere il senso ci siamo insomma divisi perché ognuno voleva prendere la sua strada all'epoca ecco Alessandro è diventato Alessandro Siani quindi era molto più più spietato io all'epoca avendo iniziato a 16 anni avevo ancora il problema del militare dovevo terminare gli studi quindi stavo in una fase complicata della mia crescita quindi uno non può ostacolare essere un peso ad un'altra persona e quindi poi iniziai a incontrare ad un laboratorio di teatro e incontrare Massimo ma è stata un'esperienza incantevole perché ho iniziato a 16 anni frequentavo il tunnel cabaret che si trova a Vicolazzi al centro storico adiacente alla chiesa di Santa Chiama la sala di Santa Chiara ed era di Nando Murmone che all'epoca era gestore di questo locale il tunnel cabaret dove faceva cabaret e musica live era il periodo in cui credo che al di là degli anni della pandemia sia un pochettino abbandonato l'underground napoletano perché essendo Napoli una città vulcanica avendo il Vesuvio esplode in qualcosa esplode ogni tanto esplode o nell'arte o nel calcio o politicamente di creatività comunque si esplode di creatività ecco negli anni precedenti c'era l'esplosione Pino Daniele Napoli Centrale poi i Neomelodici esploso il cabaret in quel periodo al di là dello scudetto Maradona esploso in quel periodo il cabaret insieme alla scia anche dei Neomelodici esatto chi ricorda quel periodo i Neomelodici erano sempre ospiti da Maurizio Costanzo c'era questa ventata di nuovo da lì la nascita di Gigi D'Alessio anche e iniziò il cabaret perché si faceva a Napoli questa trasmissione che andava su un emittente regionale che era Telecaribaldi che ricordo che all'epoca spostò l'audience di Rite4 che era il telegiornale condotto da Emilio Fede dovette cambiare e spostare perché il pubblico era appassionatissimo e seguiva su questa emittente regionale Telecaribaldi ed avevamo un successo con i ragazzi della discoteca io all'epoca interpretavo una ragazza che si era già fondamentata anche nelle trasmissioni nazionali a Pippo Kennedy Show furono presi Antonio e Michele Rosalia Porcaro Simone Schettino io mi trovai a partecipare a Commission quindi intanto ecco dietro la carriera davvero costriata da tanti successi qual è il segreto per diventare un comico e per far rivivere continuamente la comicità anche se poi ci accorgiamo che la comicità poi sia cambiata non nel corso degli anni ridere sempre restando anche fedele magari ad un unico personaggio quanto possa essere difficile ma quanto possa poi essere ecco punto di riferimento anche nella società come specchio no? fotografia della società allora diciamo che chi fa l'attore comico ha un dono è un dono di natura avere il tempo comico una cosa che a qualsiasi non ce l'hai non si può insegnare c'è una famosa lezione che si fa sul tempo comico che agli allievi i maestri dell'epoca io dico maestri dell'epoca perché sono stato insomma allievo di Guido Palleggiano dove poi ho incontrato Massimo c'era si faceva una battuta e l'allievo doveva chiudere la battuta nel momento in cui il maestro ti toccava la mano nel momento in cui uno porge per far chiudere la battuta all'allievo in quel momento là il tempo di toccare la mano è il momento in cui è finito il tempo comico quindi è una cosa che non si può insegnare il tempo comico deve partire ognuno ha il suo tempo comico però bisogna coltivarlo coltivarlo sia attraverso gli studi perché veramente il tempo è cambiato soprattutto sui tempi nel momento in cui io ero affascinato da questo lavoro e ti parlo proprio della mia adolescente ma prima della mia adolescente della mia infanzia ecco l'handicap che avevo io che posto di guardare i cartoni animati mi guardavo le commedie di Edoardo o i film di Massimo Troisi o tutte le trasmissioni i tempi erano più dilatati uno sketch dell'asmorfia all'epoca era 7-8 minuti invece adesso è tutt'altro il tempo si noi arrivati a Medin Sud sulla Rai anche al Colorado abbiamo vissuto già i 3 minuti i famosi 3 minuti in 3 minuti tu devi portare questo soggetto di 3 minuti farti comprendere nei primi 30 secondi far ridere perché poi le regole sono quelle fondamentali anche del vecchio teatro a Napoli si dice a prima tra sud guardatevi sac cioè come entri in scena devi far ridere il pubblico perché devi capire mosorire se no inizia un meccanismo di critica negli attori si distrae da ciò che tu gli vuoi trasmettere quindi 3 minuti già li abbiamo vissuti con ansia con l'avvento dei social e l'uso proprio esagerato dei social credo che i tempi sono diminuiti a 15 secondi diventa ancora più difficile ho un massimo al minuto i meccanismi che più funzionano i TikTok che più funzionano le storie di Instagram durano 15 secondi e quindi lo studio sta nel velocizzare ancora ecco e trovarti a passo con i tempi intanto è stato davvero un piacere averti qui a mattina live però io direi di restituire ancora una volta un pensiero in conclusura a Massimo ricordando l'associazione di tutto quello che di bello voi fate attraverso l'associazione perché con la stessa aiutate tutte le persone in difficoltà e soprattutto in questo periodo storico delicato della guerra russa in Ucraina voi vi state mobilitando anche su questo aspetto questo è perché io sono ambasciatore della Conadi e la Conadi si promuove a raccogliere fondi perché in pratica sta cercando di stabilizzare qua in Italia e quindi cerchiamo anche famiglie che possono accogliere le famiglie ucraine perché infatti c'è l'Iban non so se lo riescono a leggere da casa l'Iban è per accogliere fondi perché i pullman che vanno in Ucraina purtroppo hanno bisogno di benzina per andare a prendere le famiglie e poi le stiamo sistemando qui quindi qualsiasi bene di uso primario basta collegarsi al sito della Conadi per sapere come poter donare sia beni sia eventualmente denaro e sia famiglie disposte ad accogliere famiglie che stanno scappando dal lavoro questa è la Conadi ma prossimamente ritorneremo al teatro Cilea con gli eventi per l'associazione Massimo Borrelli Voglio il Massimo Lusso e per rivederti in scena ma soprattutto fra pochissimo ne avremo la possibilità di rivederti proprio attraverso Made in Sud complimentissimi è stato davvero un piacere conoscerti complimenti a Peppe Laurato per essere stato qui con noi grazie dell'invito complimenti a te Mariù e complimenti a Canale 8 un saluto agli amici di mattina ti aspettiamo presto restate con Mattina Live pubblicità Grazie a tutti